bellissima 27 anni fa e ne sono passati quello è padrino parte terza questo quando è? quando sparo al pacino? che meraviglia che è successo? mi devo guardare dentro questo è un po' di tempo vuoi sapere che ho fatto 218 film 5500 spettacoli di Adriani come attore, autore e regista ecco perché ho parlato senza microfono allora non c'è bisogno di presentarti Mario Donatone l'hai detto tu, tantissimi film 218 218 non sono tantissimi è oltre è oltre l'immaginario l'ultimo film che ho fatto con gli americani però non mi dite come ho sentito il film perché si chiama titolo secondo con un attore americano protagonista regista americano poi quando abbiamo finito il film che ho avuto il tecnico del suono mi ha tolto tutto in fila sono arrivato dal regista mi ha fatto applaudire da 200 persone bellissimo io l'ho ringraziato ma ovviamente recitato in americano no in latino in latino ho fatto un cardinale ho fatto un cardinale ho fatto in latino con questo protagonista americano che io non lo ripeto non mi ricordo come si chiama neanche il film che è importante il film ha notato il numero 2 number 2 il titolo mi segue tutto ricordi no allora andiamo a vedere però poi lo mettiamo infatti il montaggio il film era quello è vero io mi ricordo adesso è attaccato però 200 200 pullman come si chiama come si chiama i pullman per gli attori l'americano c'ha il quadrino tu marchi o mani lo sai che col coppola per esempio lo puoi scrivere io filmai un contratto di 7 giorni ne ho girati 77 nell'arco di 10 mesi l'italia e a new york mia moglie era ospite di Coppola non so po' marcia male marcia male poi c'è una lira quanti puoi fare il cinema non lo possiamo fare infatti io l'ultimo film che ho girato no sì tra gli ultimi adesso lo ha pagato adesso lo ha pagato vabbè qui abbiamo una piccola parte poi in realtà abbiamo scoperto che erano due personaggi ma uno è stato tagliato forse io ma una parte ha fatto il vecchietto prima una parte ha fatto il vecchietto poi ha fatto il papà di Zappulla e l'ultima scena il regista si è commosso si è messo a piangere ho detto prima ma che ti ho fatto l'automerato l'automerato mi ha detto ma come fai madonna che sei e che vuoi fare sono attore lui fa regista io anche io sono regista in teatro ma gli attori devono fare emozionare sennò che si stanno a fare ma gli fai cioè che si fa poi chissà perché ho fatto 3-4 film come finale tutti questi finali inizi a piangere fa emozionare sì io non ti vedo come quanto luce chi sei tu non ti vedo ho il black no ho il black ok adesso io ho il white grazie 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 per la sua carriera i tempi stai grazie qualche emozione l'ha avrà data pure a noi allora facciamo Zappulla grazie per la sua carriera grazie per la sua carriera grazie per la sua carriera grazie per la sua carriera